Quando hai giocato per diverse ore con un avversario come Filippo Candio durante un main event delle World Series, non puoi non farti un'opinione precisa di Pippo. Non fa eccezione ovviamente un campione come Jason Mercier, in carriera capace di vincere un EPT di Sanremo, un braccialetto WSOP e ai roller e side events come se piovesse. Italia Poker Club è quindi andata a chiedere a Jason cosa ricorda di quei giorni a Las Vegas in cui affrontò Candio, lanciato nella sua folle corsa verso un posto tra i November 9. Filippo è veramente un bravissimo ragazzo. Ha giocato in modo un po' pazzo ed è quello che a volte serve per andare deep nel main event delle World Series. E ha fatto alcune bellissime giocate. Penso abbia fatto una gran cosa ad arrivare fino al final table. E poi ha finito pure molto bene, quindi deve essere fiero di se stesso. E cosa ci dici della mano in cui ti ha pushato con coppia di 6 facendoti passare addirittura a suo cappa? Lì ha fatto una giocata estrosa. Aveva aperto e poi ha fatto l'in all'istante in 5-bet dopo che io avevo chiamato una 4-bet. Ecco, non mi aspettavo esattamente che lui potesse andare all-in light con 2-6. Ma alla fine ho fatto un buon fold, visto che l'altro giocatore nella mano aveva pure lui a suo cappa. Però questa è una valutazione condizionata dal risultato. Comunque credo che lui abbia fatto una bella mossa.